Penso che queste sinergie siano molto importanti, è un compito dell'associazione riunire quelle che sono le energie sul campo per poterle indirizzare a beneficio degli agenti immobiliari. Io rappresento uno di questi partner che collaboriamo da sei anni con FIAIP, LMLS e Replat e stiamo facendo un buon lavoro per gli agenti immobiliari. Grazie